Il Covid-19 non ferma l'attività di formazione della Diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. Sono ripresi infatti in streaming i ritiri del clero, riunitosi per l'incontro mensile tramite una piattaforma di videochiamate. Dopo la relazione di Don Antonio Pitta, ordinario di Nuovo Testamento e prorettore della Pontificia Università Lateranense dal titolo Preghiera in San Paolo, che è stato possibile ascoltare anche in diretta su Facebook e sul canale TV Maria Vision da chiunque fosse interessato, è seguito un momento di condivisione su come si è vissuta la pastorale nell'emergenza sanitaria. Alle conclusioni del Vescovo è seguita la recita della Preghiera del Regina Celi.